Buongiorno a tutti ragazzi, ben tornati in questo nuovo video, oggi vi farò vedere come non lavare la macchina Ok ragazzi, prepariamo tutto e facciamo iniziare Ok ragazzi, siamo pronti a passare la stilopola dentro, tutti gli interni E poi facciamo il lavaggio, da là Ok ragazzi, ci siamo e come potete vedere io a casa per lavare la macchina uso lo sgrassatore al limone per le coppette e i cerchi Lo svelto per i piatti per passare tutta la carcassa alla macchina Poi una spugna con lo svelto per pulire la carcassa alla macchina E una bacinella per riempire l'acqua, metterci lo svelto e pulire E poi c'ho una spiropolvere per pulire gli interni Però ragazzi io ve lo dico, io faccio un video così per divertirci con... Spettiamo il mio canale per favore E niente, possiamo iniziare a pulire tutto Bella Ok ragazzi, iniziamo, prendiamo lo svelto Qui ho già riempito l'acqua, qua c'è la bacinella Mettiamo dentro L'avevo già messo anche prima, quindi ne basta un po' Ho riempito un po' la bacinella Ora ci facciamo aprire Apri l'acqua Siamo pronti a dare uno sciacquo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti